ciao a tutti bambini oggi vi voglio raccontare una storia che piaceva tantissimo al mio bambino quando era più piccolino e che io l'adoro perché ci fa capire in questo momento un po complicato quanto sia importante ascoltare i genitori quello che ci dicono i genitori ok il libro si chiama sei troppo giovane per lo scivolo grande sam dice papà gioca con la palla invece sam lancia la palla contro il muro e boing la palla rimbalza e passa sotto la sua spalla rimbalza rimbalza la palla scivola giù per il pendio gelato torna indietro grida il cucciolo il rimbalza oh sam corre indietro la palla evviva scivola sulle zampe lungo il pendio sdrucciolevole oh evviva scivola sam e c'è una pozzanga ragionata ai piedi della collina Sam ci scivola sopra e poi sdong la palla colpisce una pietra e rimbalza l'ho presa abbaia Sam afferrandola in bocca Tom il cucciolo afferra su un blocco di ghiaccio la palla e ricomincia di nuovo a scivolare scivola 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 e scivola Sam sfreccia nel parco e combina ogni sorta di guai scusatemi tutti e poi scivola giù fino in fondo alla collina e va a sbattere contro il suo papà dice il papà ripensandoci forse puoi usare anche lo scivolo dice il papà oh no grazie rispose Sam ridendo ne ho proprio avuto abbastanza per oggi vi è piaciuta questa storia? spero di sì e a casa vi potete divertire a drammatizzarla oppure a fare un bel disegno di questa storia bellissima un bacione ciao